Musica Erano state aggredite a colpi di spranghe e catene nelle vicinanze dello stadio Porta Elisa dopo la fine del derby Lucchese-Arezzo. Adesso per quell'assalto ai danni di tre tifosi a retine, una 46enne, sua mamma di 77 anni ed infine un'amica di 27, sono state denunciate due persone, un 32enne e un 38enne, entrambi tifosi della Lucchese che sarebbero appartenenti al gruppo La Meglio Gioventù. Uno dei due inoltre era già stato colpito da Daspo. Sono stati identificati grazie ai filmati delle telecamere dello stadio e al riconoscimento diretto da parte dei testimoni. Le accuse per loro sono di lesioni personali, violenza private e danneggiamenti. La brutale aggressione risale allo scorso 16 settembre quando, al termine della gara, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le auto di alcuni tifosi ospiti non si erano accodate alla colonna scortata dagli agenti sino all'autostrada, ma si erano invece avviate in direzione nord, affinendo così per transitare in una zona dove parcheggiano le auto tifosi della Lucchese. Ed è a quel punto che alcuni supporter rossoneri avevano bloccato e circondato la macchina con a bordo le tre donne. Da lì era partita l'aggressione, con calce e pugna in gli sportelli dell'auto. Poi gli aggressori avevano anche in franto il lunotto posteriore della vettura. Le tre donne, infine, erano riuscite a fuggire. Proseguono intanto le indagini della Digos della Questura di Lucca per individuare gli altri responsabili della violenta aggressione. Il gruppo, infatti, probabilmente era costituito da 7 o 8 persone. Per gli inquirenti non si tratterebbe comunque di un'aggressione premeditata.